Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, prima di iniziare lasciate un like, iscrivetevi al canale, solitamente lo dico sempre alla fine ragazzi, oggi voglio cambiare, cambio perché oggi lanciamo anche una Forfun fantastica, spettacolare, 45 minuti a Monza sulle Formula Pro che sono uscite da pochissimo, domani mattina alle 10 esce la video recensione di questa auto qua che l'ho provata, quindi lanciamo questa combo stratosferica ragazzi, Monza Formula Pro R Factor 2 giovedì alle 21, per iscriversi www.simdrivers.eu, c'è un post, un thread che è stato aperto appositamente per darvi tutte le istruzioni, basta solo seguire, iscriversi e iniziare a provare sul server che è già aperto ragazzi, c'è anche un link dove potete andare a vedere i tempi che sono stati realizzati sul server, ragazzi 35 post partiranno velocissimamente perché è una combo veramente spettacolare, quindi cosa state aspettando? Andate ad iscrivervi su www.simdrivers.eu. Da Fabrice è tutto, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!